Misure dirette a garantire i caschi refrigeranti per le donne sottoposte a trattamenti chemioterapici e questo è l'oggetto di una mozione che sarà presentata nella seduta di domani del Consiglio regionale della Basilicata dai due componenti della Sise Lucana di Basilicata, oltre Massimo Zullino e Giovanni Viziello. L'obiettivo della proposta che è stata presentata ai giornalisti durante una conferenza stampa dedicata punterà a dotare le aziende sanitarie e gli ospedali regionali delle risorse finanziarie necessarie per l'acquisto dei caschi refrigeranti e degli annessi apparecchi elettromedicali per garantire a tutte le donne in trattamento chemioterapico o radioterapico la possibilità di contrastare la perdita dei capelli determinata dalle terapie antitumorali. Sarà inoltre garantita, cita il testo della mozione, anche la presenza nelle strutture sanitarie di personale specializzato per assicurare l'utilizzo dei caschi secondo standard di qualità, efficacia e sicurezza. Ne esistono in realtà già due alla San Carlo a Potenza, però è giusto da due anni. Però è giusto che questa cosa venga estesa a tutto il resto della regione, anche nei servizi dove si fa semplicemente l'infusione chemioterapica. Con questa mozione vogliamo dare anche una nuova attenzione a quello che è il CROB. Ci sembra anche strano che il territorio del Vultore Melfese, dove risiede appunto questa importantissima struttura di eccellenza regionale, non abbia ancora questi caschi refrigeranti. Ma ricordiamo che oltre a mille servizi che mancano ancora è passato già un anno e non abbiamo ancora neanche il direttore scientifico. Alla conferenza stampa, oltre ai proponenti, erano altresì presenti la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Margherita Perretti, e la Presidente dell'Associazione Agata Volontari contro il Cancro, Rosa Gentile. Un percorso psicologico che traumatizza molte donne, molti uomini che fanno la chemio e che appunto fanno fatica anche ad insediarsi in sistemi lavorativi dove magari si sentono a disagio nel rapporto con la famiglia, nell'ambiente.